I dipendenti avrebbero accettato il sistema del cavallo di ritorno per evitare il licenziamento restituendo parte degli stipendi e sarebbero stati obbligati ad aprire un conto corrente e consegnare carta banco mate codice PIN ai propri datori di lavoro. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto nei mesi scorsi ha disposto il rinvio a giudizio di tre dei sei imputati dell'inchiesta stipendi spezzati su un presunto giro di estorsioni ai danni dei dipendenti della cooperativa Suami di Licata che gestiva delle comunità per disabili psichici. Comparsi davanti ai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento il dibattimento non è stato aperto perché il presidente del collegio Alfonso Malato ha già trattato il procedimento in qualità di GIP e quindi non è compatibile. Il fascicolo è stato così assegnato alla seconda sezione penale preseduta da Vilma Angela Mazzara che lo tratterà a partire dal 29 novembre. Sul banco degli imputati siedono Maria Barba de Taggiusi, 39 anni, ritenuta la responsabile di fatto delle due sedi operative della struttura, Caterina Federico, 38 anni di Licata e Veronica Suterasardo, 34 anni di Agrigento. Diversi dipendenti si sono costituiti parte civile. Il giudice ha altresì accolto l'istanza avanzata dall'avvocato Angelo Farruggia disponendo il sequestro conservativo dei beni immobili a carico di barba pari a 405 mila euro in favore delle stesse parti civili. Disposto il non luogo a procedere per avvenuta prescrizione per Linda Modica, 54 anni di Licata e sentenza di non luogo a procedere per morte del reo a carico di Salvatore Lupo, 45 anni di Favara, amministratore unico della cooperativa Suami, ucciso il giorno di Ferragosto in un bar di Favara e ancora non luogo a procedere per Rosa Sferrazza, 70 anni di Favara. L'operazione stipendi spezzati è stata eseguita nel 2017 dai carabinieri della compagnia di Licata. Maria Barba è l'ex moglie dell'imprenditore Totolupo e per quell'omicidio è attualmente sotto processo il padre della stessa imputata.